Care concittadine, cari concittadini, il 15 maggio siamo chiamati a votare sulla partecipazione della Svizzera al potenziamento di Frontex, l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera alla quale la Svizzera collaborò dal 2011 in qualità di Stato Schengen. Il potenziamento previsto è fondamentale per la sicurezza del nostro Paese. In materia di sicurezza, infatti, la Svizzera intrattiene una stretta e ottima collaborazione con gli altri stati Schengen e Frontex è uno dei pilastri che fanno funzionare il sistema Schengen-Dublino. La libertà di viaggio nello spazio Schengen non è possibile senza la protezione efficace della frontiera esterna e il ruolo di Frontex è cruciale anche adesso nella crisi ucraina. La crisi migratoria del 2015 ha messo in evidenza la carente protezione delle frontiere esterne. Ecco perché l'Unione Europea ha deciso di potenziare Frontex dotandola di fondi ed effettivi supplementari. La Svizzera, in quanto Stato Schengen, è tenuta a contribuire a questo potenziamento ed è contro questo impegno che è stato lanciato il referendum. In termini concreti, la Svizzera aumenterà gradualmente gli effettivi destinati a Frontex. Il contributo finanziario della Svizzera sarà portato dalle attuali 24 milioni di franchi a circa 61 milioni. Il potenziamento di Frontex rafforza esplicitamente anche la tutela dei diritti fondamentali. La Svizzera si impegna per il rispetto dei diritti fondamentali anche nel Consiglio di amministrazione di Frontex. Respingendo la riforma, la Svizzera rischia l'esclusione da Schengen-Dublino e gravi ripercussioni per la nostra sicurezza. Ad esempio, le autorità non avrebbero più accesso al sistema di informazione Schengen, il principale sistema di ricerca europeo, con il risultato che le nostre autorità di sicurezza prancolere però nel buio. Ma un no avrebbe anche altre conseguenze. La Svizzera dovrebbe ad esempio riesaminare domande d'asilo precedentemente respinte da un paese europeo, con conseguente aumento del numero delle domande. Alle frontiere con i paesi vicini verrebbero di nuovo effettuati controlli e anche il turismo rischia delle perdite. Dire di nuovo Frontex avrebbe un impatto negativo sulla sicurezza della Svizzera e causerebbe elevati costi alla nostra economia. Per tutte queste ragioni il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di accogliere il progetto. Grazie per la visione!